Oggi vediamo un allenamento per i tricipiti devastante assurdo ovviamente senza l'utilizzo di pesi solo a corpo libero vi mostrerò cinque esercizi i primi due un po più semplici gli altri tre esercizi saranno un pizzico più complessi di livello un pochino più avanzato prima di iniziare vi ricordo che se siete interessati a migliorare gli esercizi a corpo libero potete andare sul mio sito andrararosa.fit in modo da avere una forza di base a corpo libero per la maggior parte degli esercizi detto questo iniziamo con la prima super serie come slow yeah they were sleeping they were snooze on me i was dreaming but with food to eat why they sleeping why they snooze don't be i was seizing opportunity you don't know what to do with me i sono andato a fare 20 ripetizioni per ciascun esercizio sono andato a fare 20 ripetizioni per ciascun esercizio ovviamente poi le ripetizioni si adeguano al vostro livello quindi potete partire con cinque sei ripetizioni per esercizio se non siete abituati ad allenarvi a corpo libero e ovviamente poi con il passare delle settimane potete aumentare le ripetizioni il primo esercizio estensione di tricipiti su un rialzo quindi in questo caso usato una sbarra ma potete usare qualsiasi altro rialzo ovviamente glutei contratti addome contratto stringete e da qui vi concentrate a distendere le braccia ad attivare il tricipio secondo esercizio invece servirà un rialzo della giusta altezza in questo caso usato una panchina dips assistiti con i piedi a terra posiziono come un dip io preferisco appoggiare solo i talloni a terra da qui scendo e vado a rompere l'angolo di 90 gradi questo è già un esercizio più comune quindi lo dovreste già conoscere ora parliamo dei successivi tre esercizi questi ve li mostrerò in una tri serie i primi due esercizi sono una versione leggermente più avanzata di questi due che abbiamo appena visto che andranno benissimo per le persone che sono a un livello leggermente più avanzato che sono già abituati ad allenarsi al corpo libero quindi tricep extension e dips le dips potete eseguirle sulle parallele e visto che non ci sono in questo parco le andrò ad eseguire su una sbarra circolare li potete anche andare a variare quindi su sbarra singola o su parallele il mio consiglio personale è quello di focalizzarvi sulle dips su parallele e solo di tanto in tanto per variare farli su sbarra non ci sono Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501